Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti anche quest'oggi a questo nuovo video. Questo sarà l'ultimo video per ora che faremo con un gameplay della beta di Battlefront. Battlefront, mamma mia. Ne ho già parlato benissimo nello scorso video. Però, ovviamente, vi avevo promesso che avrei parlato della modalità di gioco principale che è quella roba simile a Corsa, quella che per ora si gioca su Hot. Ebbene, cos'ha di così bello queste modalità di gioco che ve ne ho parlato tanto bene nello scorso video ma non l'ho spiegato. Semplicemente, lo scorrimento è geniale. La mappa funziona in questo modo, la modalità di gioco, no? Allora, gli attaccanti, gli aggressori, che nel caso di Hot è l'impero ed è, sfortunatamente, l'unica mappa che abbiamo potuto giocare nella beta su queste modalità. Allora, gli aggressori, ovvero l'impero in questo caso, avanza a bordo dei loro At-At e attacca questa base che è situata sul pianeta di Hot, dei ribelli, che cercano di difendere. Inizialmente si potrebbe pensare che è una modalità di gioco molto simile a Corsa, no? Si va, si piantano gli obiettivi, si fanno scoprire le bombe e la mappa si estende. Però è completamente diverso. Allora, innanzitutto, il cambiamento dello schieramento non è a scatti come lo è su Battlefield. Cioè, su Battlefield noi responiamo come aggressori e come difensori sullo stesso porzio di mappa sempre nella stessa area, sempre nella stessa zona. E questo spawn cambia radicalmente quando scoppia la seconda M.Com, no? Su Battlefield questo concetto è completamente diverso. La mappa è molto più fluida. Infatti, più l'At-At nemico avanza e più, sempre a un intervallo molto molto ridotto, lo schieramento si sposta sempre più verso la base da difendere. Quindi l'impero avanza sempre un pochettino a schierarsi e si schiera sempre più o meno dietro l'At-At, no? Che va non di scatto in avanti, ma va molto molto lentamente, procede lentamente e questo va a spostare continuamente lo schieramento degli aggressori. Mentre i difensori, ovviamente in modo direttamente inverso, continuano a responare sempre più vicini alla base che devono difendere. Fino ad arrivare al punto che l'impero è arrivato alla fine della mappa e i ribelli hanno perso la partita. O i ribelli sono riusciti a distruggere l'At-At e quindi a fermare l'avanzata dell'impero. La cosa bella è che in questo modo non abbiamo diversi blocchi di mappa che cambiano ogni volta. Cioè ogni volta è come su Battlefield quando si gioca a corsa. La cosa bella della modalità corsa è che in una partita si provano diverse porzioni della stessa mappa dove lo stile di gioco può anche essere diverso, ma ha sempre qualcosa in comune ma continua a cambiare radicalmente. Mentre su Battlefield questo cambiamento avviene molto lentamente e si passa dalle strette basi dei belli dentro i bunker a lande aperte e molto molto vaste e come ho già detto non è una cosa improvvisa ma una cosa molto molto lenta e questa cosa è molto bella perché è come se si riuscisse ogni volta che si respona è come se si rivivesse una mappa sempre un filino cambiata e questa cosa rende molto molto interessante questa modalità di gioco e come ho già detto prima la fa fluire in una maniera incredibile ed è una cosa che davvero va accreditata alla DICE non alla EA, la EA fa solo cose brutte quindi quando c'è qualcosa di bello l'ha fatto la DICE non la EA, ricordatevi questo particolare ragazzi la EA rovina i giochi la DICE invece secondo me è una brava azienda videoludica in ogni caso vi stavo parlando di queste modalità di gioco e si mi piace mi piace davvero davvero tanto mi piace com'è strutturata e mi piace anche come funziona il sistema di ricompense cioè non è come su Call of Duty che va bene io faccio top kill di fila e ho la mia ricompensa uccisioni e la uso più che altro si trovano in giro per la mappa in modo piuttosto casuale questi power up che poi si possono utilizzare ad esempio piazzando una torretta ad esempio potendo essere sulla TAT ad esempio schierandosi dentro ai jet che poi sono astronavicelle spaziali però vabbè non stiamo lì a specificare e anche questo sistema di ricompense è molto molto bello perché ti dà l'impressione che ognuno ha la possibilità di avere questi power up se performa abbastanza bene in partita e se riesce a usare il power up prima di morire perché se moriamo in teoria lo perdiamo quindi sì, questo qui è il motivo per il quale mi piace moltissimo questa modalità di gioco e ora in teoria vorrei parlarvi di tante altre cose ma ho detto che voglio tenere più corti video e così sarà quindi ragazzi se faccio i video bredi non è perché non ho voglia di fare il video bla 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 ma perché preferisco pubblicarvi un video oggi un video domani un video dopo domani piuttosto che pubblicarvene uno ogni tre giorni se riuscite a capire il concetto quindi vi tengo gli argomenti che avevo risparmiato per domani cioè per la fine del video li tengo per domani e poi domani andremo a vedere un video quindi ragazzi io vi saluto questo è tutto per questo video ricordatevi di lasciare mi piace ho aperto una pagina twitter che vi lascerò il link in descrizione appena aperta ho un follow wow quindi se avete twitter seguitemi lì e altrimenti noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao